Questa seduta della Seconda Commissione insieme ai Capigruppo è frutto di una iniziativa del mio gruppo consigliare dei mesi scorsi. Il bisogno cioè di incontrare anche l'amministrazione regionale, la figura dell'assessore ai servizi sociali a Locca, per ragionare in maniera compiuta di una vicenda che a Pisa è stata di recente spesso affrontata in termini di emergenza attraverso il sistema delle ordinanze. Per arrivare a questa riunione abbiamo impiegato del tempo, però posso dire che i risultati sono concreti. La Regione si appresta a sottoscrivere un accordo con il Comune di Pisa, per un contributo anche consistente di alcune centinaia di migliaia di euro, per un programma condiviso a livello di area per intervenire in maniera compiuta sulla presenza romano nel nostro territorio. Questo è un primo risultato. Noi abbiamo chiesto stasera che, nel momento in cui la Società della Saluta dovrà fare il piano operativo per decidere come intervenire anche attraverso l'utilizzo di queste risorse, ci possa essere un ulteriore passaggio nella Commissione Consiliare per poter dare anche suggerimenti, fare proposte su come utilizzare queste risorse. Speriamo che questo ci sia e che finalmente nella città il problema romo venga affrontato in maniera risoluta, decisa, ma diversa da come è stato affrontato nel passato. Grazie a tutti.